E' tutto pronto per la risemina del manto erboso dello stadio Iacovone di Taranto, che è arrivato con la venuta giudicazione della gara per i lavori di manutenzione, custodia e pulizia della struttura. Il comune di Taranto è a lavoro per garantire la piena fruibilità per la prossima stagione sportiva. Proprio per questo l'assessore ai lavori pubblici, Cosimo Ciraci, si è recato allo stadio per verificare lo stato attuale del manto e approfondire i dettagli dell'intervento, inserito nelle attività dell'appalto e aggiudicato per una somma prossima ai 200.000 euro con un sensibile aumento di ore per i lavoratori coinvolti. La semina viene effettuata ogni anno e dovrebbe concludersi in tempo per l'avvio della nuova stagione calcistica. Le condizioni sono discrete, ovviamente c'è ancora da lavorare, ma l'amministrazione comunale è da questo punto di vista sul pezzo in quanto per tempo è stata affidata la nuova gara per i lavori di manutenzione del manto erboso, custodia dello stadio e pulizia dello stesso. Quindi siamo perfettamente nei tempi. Questa mattina ho avuto anche l'incontro con la ditta aggiudicataria dei lavori e per cui ho chiesto loro in maniera perentoria che il Prato deve essere nelle migliori condizioni per tempo rispetto a quelle che saranno per l'appunto gli impegni che l'amministrazione comunale ha assunto con la squadra di calcio ed eventualmente anche ulteriori impegni presi. Grazie. 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 Grazie.